Ci siamo conosciuti tre anni fa. Era una sera d'estate. Non l'avevo mai vista prima, ma rappresentò un mio amico. Ricordo ancora il suo profumo così particolare, il suo modo di sorridere alle mie battute. Era bella. Fu per me un colpo di fulmine. Voleva che la aiutassi per la sua tesi di laurea. Ma me volentieri, le dissi. Iniziamo a frequentarci. Alla fine ci fidanzammo. Che bei momenti. Il primo anno fu per me come un sogno. I viaggi insieme, le giornate, passate a guardare le stelle. Lei voleva conoscere la mia famiglia, io la sua. Quanti progetti. Decidevo di andare a vivere insieme. Io l'amavo. Dopo un po' di tempo lei ottene un lavoro. E da lì iniziano i miei sospetti. Capirete, lavorava insieme a quattro uomini. Ero geloso. Lei non aveva più tempo per me. Le giornate con le amiche, il lavoro, la palestra. Credevo mi tradisse. Iniziai a pedinarla, a seguirla. Controllavo il suo cellulare, le sue email. Non riuscivo a trovare niente che potesse confermare i miei sospetti. Niente. Ero geloso. Geloso persino dei suoi sogni. Iniziai a farle cenate di gelosia. Non le credevo. Li dicavamo sempre. Tu non sei più come prima. Tu sei diverso. Tu sei pazzo. mi diceva. Mi lasciò. No, ti prego. Non te ne andare. Non mi puoi lasciare. Dammi un'altra possibilità. Non puoi abbandonare questa casa. Ti prego. E' inutile che mi guardate così. Che cosa avreste fatto voi nella mia stessa situazione? Era l'unica soluzione. Lei non poteva essere di nessun altro. Ogni centimetro della sua pelle mi apparteneva. Era mia. Mia. Se cercate il suo corpo, lo seppelite in giardino. Nel nostro giardino.